Ciao a tutti, Dante Prima Cinema, vediamo il trailer di oggi, subito dopo le notizie di cinema. Allora pronti? Vai! Al Barsport si parla di tutto. Che c'è di sette bello? Che c'è di sette bello! Scusami! Che c'è di sette bello? Dopo di sette bello, alla fine ti fai sette bello, carte, ori, premiera e pure due scupe. E tre sette! E tre sette? Sì! Scusate. Di sesso, amori, sfide, cappuccini, centravanti, trasferte e meringhe. Avete delle paste? Delle paste? La Luisona! Sembra viva. Se la Luisona viene ingerita, prima buca l'esofago, poi arriva il fegato e il fegato... Scusi? È questo il Barsport? Perché non si legge, scusi? E così il metri si porta al tavolo migliore. Scusi, ragazzi! Questa volta l'insegno funziona, sono sicuro! Ehi! L'insegno del bar è in alto, eh! Ragazzi, ma dove vi ho portato? Ci porti qui una donna? Lascia stare! Sto cercando di ricordarmi questo odore. Rustico. Più che è rustico... Di merda, eh! Non farlo, non farlo, non puoi farlo! Ruben Fleischer, regista di 30 Minutes or Less, torna dietro la cinepresa per tentare di portare sullo schermo un film più forte del precedente, con Gangster Squad. Il film è un thriller e anche se non uscirà fino al 2013, sappiamo già che i protagonisti saranno Ryan Gosling e Demma Stone. È stata rilasciata la prima foto ufficiale di Dark Shadows, il nuovo film di Tim Burton. Il film è ispirato ad una serie televisiva americana che è andata in onda dal 1966 al 1971. L'attore preferito del regista, Johnny Depp, vestirà le parti di un vampiro. E per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata da Anteprima Cinema.